Eccoci in compagnia di Nino Gagliardi, si perde un altro e l'ennesimo time break, a questo punto che cos'è che non va in questa squadra? In realtà è difficile dare una spiegazione soprattutto dopo aver vinto un secondo set nel modo in cui l'abbiamo vinto e un quarto dove abbiamo condotto sempre noi le danze, il problema è che nel terzo abbiamo sprecato un vantaggio buono sul 19-16 senza neanche fare un punto fino al 25-19, quindi al di là di tutto l'unica medicina che in queste situazioni io conosco è lavorare e affrontare tutte le situazioni, una per una, quindi possiamo solo raddoppiare, triplicare il lavoro che facciamo perché è fuori di dubbio che evidentemente non basta quello che stiamo facendo e sicuramente non basta quello che stiamo facendo, poi cose che non vanno ce ne sono tante all'interno del campo perché quando tu ripeto sei avanti 19-16 e l'avversario si limita a mettere la palla in mezzo a due giocatori e nessuno prova a prendere la palla è chiaro che fai fatica, quindi c'è anche la poca reazione davanti a situazioni come queste, stessa cosa è successa nel quinto set dopo che vinci un quarto con autorità e cominci 7-0 praticamente con l'avversario che usufruisce di solo errori nostri è chiaro che diventa difficile portare a casa la vittoria. Adesso è una settimana intera per fare la prima settimana intera di allenamento a tua disposizione, avrai modo insomma di sistemare qualche cosa? Sì, proveremo a sistemare alcune cose, analizzeremo tutte le situazioni ovviamente che possiamo migliorare nel breve e poi cerchiamo di venire fuori da una difficoltà enorme come quella che tutta la squadra in questo momento sta avendo. Certo non è semplice però noi abbiamo il dovere e soprattutto la voglia per ciò che mi riguarda e spero anche da parte di tutto il gruppo di lavorare perché si esca da questa difficoltà nel più breve tempo possibile. proveremo anche in queste due settimane a recuperare tutti gli acciacchi che abbiamo perché è chiaro che per poter rimettere in campo gente che è stata praticamente ferma un mese senza mai allenarsi ci vuole del tempo e chiaramente i risultati non aiutano e quindi ci vuole tempo e pazienza. Grazie mille, allora in bocca al lupo. Viva il lupo. Grazie.